Si parla di disservizi in particolare dell'ospedale di Pescara, dell'ASL di Pescara. Voi lamentate diverse cose che non vanno. Quali in particolare? Allora, in particolare il finanziamento che ha l'ASL di Pescara a fronte di un ospedale come quello di Pescara che è il primo per le prestazioni in Abruzzo e ci sono i dati che lo dimostrano. Noi abbiamo il finanziamento più basso per il personale di tutte le ASL della regione Abruzzo e questa è una cosa assolutamente incongruente e che crea delle grosse difficoltà per i servizi che devono essere dati ai cittadini. Le persone che vengono non riescono a trovare una risposta adeguata alle loro esigenze però la responsabilità è della regione che sottofinanzia l'ospedale di Pescara rispetto alle altre aziende ospedaliere. Innanzitutto chiediamo un aumento del fondo stanziato per il personale perché tante persone sono andate via e non sono state sostituite quindi la regione deve rivedere il finanziamento per il personale dell'azienda sanitaria di Pescara. C'è l'associazione Metis, c'è l'associazione Colori della Vita, il Comitato dei pazienti oncologici, c'è l'associazione Alzheimer Uniti Abruzzo, poi ci sono io che sono della tutela dei diritti del malato ma c'è anche la consulta dei medici dell'ospedale di Pescara, c'è l'AIPA che è l'associazione dei pazienti anticoagulati quindi a dimostrazione che è veramente un'unione di forze perché la situazione è diventata insostenibile. L'organico è sempre stato inadeguato, l'organico di Pescara, ma adesso proprio siamo al di sotto dei numeri. Io vorrei semplicemente dare un dato sulla radiologia, sono andati via 12 radiologi, ne sono arrivati 5.